Ma io? Dove sta? Stiamo parlando, il mirofono è lì, quindi... Oh ragazzi, scusatemi, io non sono potuto venire perché non ho l'età per fare queste cose. Vi ringrazio di essere tutti presenti in questo santo spirito meravigliosa e soprattutto di aver partecipato a questa zingarata, una delle zingarate, forse l'ultima si dice, speriamo che non sia l'ultima, perché, viate voi che siete fiorentini, che siete andati in una città dove si fanno le zingarate, speriamo che se ne facciano ancora, dove c'è la libertà di ridere, di divertirsi e di avere a disposizione tutti quelli che voi vedete, tutta gente che è venuta volentieri, la banda di... di dove è questa banda? Di Fucecchio. Di Fucecchio, la banda di Fucecchio che è venuta per partecipare a questa cosa. Come vedete, questo spirito, Firenze c'è ancora, speriamo che non muoia mai e che si ripeta ancora, che ci sia qualcuno che ogni tanto lo faccia vedere al mondo, come è stato con amici miei. Grazie a tutti di essere venuti e scusatevi ancora. Ragazzi, non so più che dire.